L'intelligenza artificiale ha pro e contro, ma premendo un tasto potrebbe rivelarsi una tecnologia letale. Per questo ragionamento non c'è punto di partenza migliore delle applicazioni militari. Le forze armate supportate dall'autonomia dell'IA schiacceranno e distruggeranno quelle che ne saranno sprovviste. È in atto una corsa agli armamenti dotati di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è impavida. In guerra non si arriva a secondi. Contro un'IA non si ha scampo. Un robot come farebbe a distinguere tra legittimo e giusto? Mi si sono addrizzati i capelli per lo stupore. Il computer aveva proposto migliaia di idee per nuove armi chimiche. La decisione di uccidere o meno sarà affidata agli algoritmi, ai software? È una delle questioni più urgenti di oggi. Un uso scriteriato rappresenterebbe una minaccia per ogni singola persona sul pianeta. La decisione di ucciderebbe un'IA.